Abitare il cambiamento significa essere in grado di stare dentro un cambiamento che ormai è una condizione costante e permanente. Stare dentro un cambiamento che cosa significa? Significa avere un atteggiamento mentale aperto flessibile che riesca anche a leggere l'incertezza assumerla come un dato di fatto averne anche paura ma poi non farsi paralizzare e quindi è sicuramente un lavoro da fare dal punto di vista interiore ma anche di competenze competenze per avere un mindset e quindi un atteggiamento mentale più adatto e idoneo al vivere contemporaneo e alle quotidianità che ormai sono fatte sempre di cambiamenti.